Sta salendo... Oliverio. Prego, deputato Oliverio. Con calma. Va bene. Allora dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 74, contrari 261. La Camera respinge. Siamo al 78, ordine del giorno Pisicchio è stato accolto. 79, Boccadrutti accolto. Andiamo all'80. Nicoletti, qui c'è una riformulazione. Deputato Nicoletti, chiede la parola. Prego. Grazie, Presidente. Volevo solo, anche a nome dei colleghi dei tanti partiti che hanno sottoscritto l'ordine del giorno, ringraziare i questori per l'attenzione e sottolineare il fatto che hanno colto una delicata questione istituzionale relativa alla specificità di questi organismi che dipendono dal diritto internazionale anche in parte e sono soggetti quindi anche a degli obblighi esterni e che quindi avranno bisogno di un approfondimento in altre sedi sia legislativa che regolamentare. Per quanto riguarda lo specifico degli aspetti di bilancio amministrativi, accogliamo la riformulazione proposta con l'auspicio che questa specificità che è stata riconosciuta venga dunque pienamente valorizzata anche sul piano amministrativo e del bilancio. Grazie.